Mettiamo subito in chiaro due cose. Uno, io sono il capitano Anna Oliveri. La parola capitano si usa solo al maschile. Due, prima di entrare in questo ufficio lei possa. Bandi capitana. Capitano. La parola capitana non esiste. Che hai? Senti, ti volevo parlare di una cosa. E' un po' che... Scusami. La caserma. Un'altra cosa. In caserma pretendo il massimo ordine. Le avevo chiesto di mettere a posto la scrivania. Per favore, grazie. Sono affatti. E di lei, che mi dice, marescello? Io sono... Di Messina, marescello Antonio Cecchini, defonino, 32 anni di servizio, ha lavorato nelle caserme di Cassino, Guggo e Spoleto. Ha una passione per gli stacchi, in cui si dice che però non sia molto dotato. Sto pensando di diventare sacerdote. Vuoi diventare prete? I pray the skies are burned There's no one to fall on the Sahara Va bene. La prendo. Vedrà che non se le pentirà. Lei mi ha mentito per tutto il tempo. Su tutto. Che tu abbia almeno la decenza di tacere. Cominciamo molto male, marescello. Sia che tu decida di diventare prete, sia che tu decida di riprovarci. Io ci sono.